Il nostro partito contava centinaia e centinaia di partecipanti ai precedenti congressi, oggi purtroppo siamo di meno, ma penso che riusciremo a invertire con la credibilità che abbiamo sempre dimostrato che il partito delle pappatele è il partito degli onesti, il partito della pasta asciutta, questo mi ha costretto come presidente a fare una scelta drastica, forse impopolare ma importante, cioè quella di istituire un governo tecnico delle pappatele che però sta raccogliendo un altro consenso del paese degli onesti della pasta asciutta.